dalle richieste energetiche e anche dalla produzione dei rifiuti, cercando di risparmiare al massimo le energie e creando meno rifiuti, anche con un buon modo di fare il riciclo dei prodotti poi ci sarebbe tornare a Smart City per rendere la città più accoglievole, creare una possibilità migliore nelle città sarebbe opportuno avere anche un rapporto tra le aree verdi e le zone che mi spiegate, molto grande così magari lasciate una città più verde, anche un po' più gradevole, più vivibile poi l'importante è anche il problema delle acque, dell'istituzione delle acque come ad esempio a Bordenone, sarebbe opportuno avere anche dei canali di espansione così magari impedisce l'esondazione del fiume, creando vari disagi sia per i trasporti ma magari anche per l'economia locale poi passando all'ambulità, per Bordenone i trasporti subiti per il mare sono abbastanza esecenti però se posso sempre migliorare